Ora, oggi vorrei esprimere i fattori positivi e negativi che ha avuto di impatto nel suo proseguo internet e di web nella mia vita. Beh, sicuramente di positivo il fattore comunicazione, perché mi ha offerto la possibilità di parlare, comunicare, messaggiare con qualunque persona fisica o giuridica nel mondo in modo rapido, efficiente e veloce e di questo sicuramente si offre atto al web, almeno da parte mia. Come filmmaker, che è uno dei miei due o tre lavori, sicuramente avrei avuto maggiore fortuna se fossi stato in possesso di una fibrotica che invece nella mia zona non è presente, forse perché è in metà della nazione, si punta su zone centrali, non si punta molto sulle zone periferiche. Purtroppo nel mio caricare in download su alcuni siti che mi commissionano il caricamento di video, purtroppo devo sempre avere dei tempi un po' più lunghi a causa del fatto che la mia velocità effettiva è di 5-6, massimo 7 MB in banda larga. Sicuramente, ecco, questo non è un fattore positivo, però da un'altra parte non è neanche un fattore negativo, perché comunque grazie al web se posso caricare questi video su delle piattaforme che mi danno la possibilità di dimostrare che sono un valido filmmaker. Prima c'era solo la televisione e il cinema, che sicuramente non offriva al 30% del mondo questa possibilità, ma l'offriva soltanto a una piccola parte. Fattore invece totalmente negativo del web è sicuramente alcuni tipi di truffe, le classiche truffe nere, le truffe nigeriane, quali sono? Sono quelle truffe dove ti dicono, ciao, sono l'ereditiera di un grosso politico, di un grosso imprenditore rimasto morto, ho un'eredità di 5-6 milioni di dollari, cavolo dico io, ho un altro qualsiasi fesso magari che sta dall'altra parte. Sono diventato fortunato perché questa signorina vuole dividersi con me la sua eredità e magari pure sposarmi, invece in realtà tutto questo non è vero. Loro poi non fanno altro che immettere soldi frutto di atti hackers e di evasione fiscale di conto corrente in conto corrente sul mio, come poi su altri conto correnti, li fanno rimbalzare per capire se sono già tracciati. Se non sono tracciati, chi sono io, un'altra persona, il primo, li lasciano un 30% sul nostro conto corrente, il resto li tengono per loro che hanno fatto questa rapina, quest'atto di truffa, come lo vogliamo definire. Dopodiché nessuna donna bella mostrata in foto si sposerà con noi, dopodiché oltre a questo rischiamo un'indagine per favoreggiamento a chissà quale impreso, chissà quale persona fisica criminale. Magari ci arriva la chiamata della posta mobile, della polizia postale, della finanza e così via. Quindi questo è sicuramente un fattore negativo. Altra truffa, la truffa del perete, altro fattore negativo. Ciao caro, sono il reverendo, vivo nella repubblica del Begin, ho un certificato di tesore e di eredità di una mia rifugiata profuga, la figlia del proprietario di una miniera di diamanti, ha un'eredità di 5 milioni, ne darebbe a te 120.000 se l'aiuti a lasciare l'Africa, dove è a rischio vita, come precedentemente, la sua famiglia uccisa. Uno con un povero sciocco si commuove, in realtà quei 120.000 euro per averli mandano una carta scritta in inglese o in chissà quale lingua ancora più complicata da tradurre, dove ti fanno firmare un accredito di 120 euro, perché la transizione di quei 120.000 euro ovviamente è a tuo carico. che in realtà ti hanno truffato i 120.000 euro tramite un accredito che fai in contanti con Western Union, con FedEx Online e così via, al nominativo di una persona di loro fiducia, che volendo in tale modo potresti smascherare, o che magari non puoi perché magari è una persona defunta, al quale è stato sottratti il documento, è defunta da pochi giorni e quindi ancora non ci sono in quei luoghi tutte le dichiarazioni, o magari ancora peggio, sia questa che l'altra truffa si scopre che è stata sviluppata da un IP e da un server in Italia, che in realtà hanno solo finto di essere all'estero, come tutta l'altra falsa che in realtà non tramava altro che diversi retroscena alquanto amari per il povero malcapitato. Ecco, questo genere di truffe sicuramente sono il fattore negativo di internet, mentre ovviamente il fattore positivo, ulteriore, oltre alla comunicazione, non posso che dire la cultura, perché se io prima conoscevo per vie scolastiche la cultura, ad oggi, oltre che per vie scolastico, ho la possibilità di approfondirla anche su internet, non più per motivi scolastici, magari per motivi di lavoro, oppure semplice curiosità e così via. La facilità, altro fattore positivo, di avere delle certificazioni garantite, ci sono alcuni siti che rilasciano delle certificazioni con dei corsi che non sono truffe, non sono lauree frutto di reato, perché pagate senza aver mai studiato, e sono abbastanza valide, ci aiutano ad avere un lavoro migliore, un lavoro migliormente pagato, oppure semplicemente per aver arricchito le nostre capacità teorico-pratiche. Quindi, in conclusione, direi, a mio avviso, che nella mia vita il web ha fatto molto, da una parte, appunto, di positivo, visti i punti elencati, da un'altra di negativo, avendo notato, appunto, questa facilità di essere truffati casauti dal web. Poi niente, ciao a tutti!